Avola, Scuola di Largo Sicilia, sovralluogo del Sindaco Cannata, attenzione a luoghi di socialità e contenitori di formazione. Il Comune di Avola ha recentemente intrapreso significativi interventi di riqualificazione nella palestra della Scuola di Largo Sicilia. Durante un sovralluogo effettuato ieri, il Sindaco Rossana Cannata ha verificato l'avanzamento dei lavori che comprendono l'installazione di nuove infissi e l'implementazione di soluzioni volte a rendere la struttura più accogliente e funzionale. La palestra peraltro non è solo un spazio dedicato agli alunni dell'istituto scolastico ma ospita anche il Centro Comunale Minori che nel pomeriggio offre gratuitamente attività di dopo scuola grazie all'impegno degli uffici, servizi sociali e politiche scolastiche. Inoltre la struttura è aperta alle associazioni sportive locali per lo svolgimento delle loro attività. Portiamo avanti, dice il Sindaco, interventi su strutture sportive e aree esterne che riteniamo strategici, contenitori di formazione ma anche di socialità, aggregazione e inclusione nell'ottica di valorizzazione dei quartieri coinvolti. Questi lavori si inseriscono in un più ampio progetto di miglioramento delle infrastrutture scolastiche e sportive del Comune con l'obiettivo di promuovere lo sport, la socialità e l'inclusione tra i giovani e la comunità locale.